Daniela Grande di Regione Lombardia con la quale parliamo di un argomento che è finito proprio quest'estate al telegiornale e lo fa ciclicamente. Abbiamo visto il Presidente della Regione Veneto che mostrava prima la gravità del problema del granchio blu. Tutti hanno cominciato a parlare di granchio blu. Abbiamo visto su YouTube i video dei pescatori veneti che mostrano questo granchio blu. Poi abbiamo visto che si può mangiare, i politici, gli chef coinvolti che dicono che si può mangiare, è buono. Ma soprattutto proprio la biodiversità delle zone in cui queste specie aliene o all'octone si diffondono diminuisce. Noi vediamo con spavento che arriva il gambero americano, io essendo di Varese, anche se vivo a Milano, al lago di Varese ce n'è una quantità per cui la gente fa le grigliate, non sa più come fare. Vediamo solo un elemento ma dietro c'è un mondo sul quale intervengono le specie aliene che lo sappiamo non sono in una catena alimentare gestita ma sono in una catena alimentare un po' champenoise in cui in genere non hanno dei predatori diretti e quindi vanno sereni. Si dice in questi casi quasi sempre si ha la sensazione che sia sempre tardi. Cioè quando il problema arriva al telegiornale ogni volta dico inserito 30 anni fa, rilasciato 40 anni fa, sono sempre passati anni da quando questi animali sono stati inseriti e nessuno se ne è preoccupato e poi si arriva al patatrack. Cosa si può fare per le specie all'octone, per le specie aliene? Cosa si deve fare per non ritrovarsi poi nella situazione per cui sei già al telegiornale, con i decreti, con le ricette, con i tentativi? Certo, dunque sicuramente la prevenzione e la risposta rapida prima che una specie possa diffondersi nell'ambiente e provocare impatti negativi sull'ambiente e sulla biodiversità sono la risposta, la ricetta più efficace. Questo non vuol dire che non si debba intervenire anche laddove la specie si sia già instaurata e quindi possa essere controllata e contenuta. Con il progetto LifeGestire 2020 abbiamo sviluppato una linea d'azione specifica sulle specie aliene, è stata elaborata una strategia regionale per il contrasto e il controllo delle specie e con questa linea d'azione abbiamo definito le specie target sulle quali intervenire e anche i criteri per individuare gli interventi prioritari da attuare. Sono stati elaborati dei protocolli di contenimento di alcune specie vegetali su delle aree pilota, è stato elaborato un piano di controllo di gestione delle testugine all'ottone e le linee guida di contenimento delle specie all'ottone di gambero. Sono stati finanziati degli interventi, vi faccio vedere qualche esempio. Questo è il caso dell'erodea nuttali, l'intervento è stato realizzato dal parco Adda Nord, in questo caso hanno attuato una duplice attività di controllo, con un controllo manuale, infatti c'è stato proprio il sub che è andato a togliere le piante e poi ha ripiantumato le specie autottone. Questa è una specie che è arrivata in natura dal mondo acquaristico? Esatto, esatto. Quindi persone che hanno l'acquario e quando si stufano invece di prendere, cioè distruggere, far seccare al sole, buttare via, decidono che sia più sano prendere specie animali vegetali e buttarle in natura, così sono felici e producono un disastro totale. Le tartarughine della Florida sono state un cataclisma per le tartarughine. Quelle sono l'esempio proprio. Quella bella guancia gialla o arancio a seconda delle specie, che carine, ovviamente sono delle testugge, diventano grandi così, quindi quando sono già così vengono lasciate negli ambienti acquatici e le nostre specie, che in genere poi funziona sempre così, no? Se l'alloctono si instaura è perché è di bocca buona rispetto all'autoctono, no? Sì, ma i predatori. Ma i predatori è più sereno, è lo scogliattolo grigio rispetto al rosso, è il granchio blu rispetto a... e il gambero nostro rispetto al... è sempre così. E quindi questa pianta, nel caso specifico, scusami, stavo cercando di spiegare, ma poi mi sono fatto prendere, è stata eradicata fisicamente e sono state ripiantumate le specie autoctone. Sì, esatto. Tra l'altro provoca... dove si instaura la formazione di tappeti monospecifici. Quindi c'è solo lei dove si instaura. In questo caso, appunto, c'è stata una rimozione manuale e poi anche un intervento di tipo meccanico con un mezzo che, con una benna, diciamo, ha estratto, ha rimosso la biomassa. Un altro esempio di un'altra specie, questo è il Saurulus cernus, detto comunemente coda di lucertola. In questo caso, in Lombardia, è una specie che, diciamo, è localizzata e si trova nella ZSC del lago di Comabio. È un intervento fatto dal parco del Ticino. Qua hanno fatto uno sfalcio nella, diciamo, nella zona più asciutta della palude con un decespugliatore e poi sono intervenuti con un mezzo anfibio dove la specie si trova, diciamo, immersa nell'acqua. Questo invece è l'esempio della Garosifonmaio, che è un'altra specie diffusa grazie all'acquariofilia. Somiglia molto all'elodea per un occhio non esperto. In questo caso, anche qui, si è potuti intervenire in modo efficace perché, diciamo, l'ambito era contenuto. Hanno fatto una rimozione manuale e con un sistema di suzione delle radici dal fondo del fontanile. Questa è la biomassa che è stata estratta. Invece, parlando di specie animali, questa è una zattera realizzata artigianalmente per catturare le trachemis, che citavi tu prima, che è stata poi immersa nel laghetto del centro di detenzione di Brescia, che è uno dei tre centri realizzati a livello regionale per poter catturare gli esemplari, censirli e quant'altro. E questo è un esempio di cartello esplicativo con la recensione che delimita il laghetto. In questo caso, invece, è un intervento di rimozione e eradicazione, anzi, del gambero rosso della Louisiana, che era in una situazione isolata di un fontanile. Quindi è stata estratta l'acqua dal fontanile, è stata messa questa recensione, diciamo, per contenere la fuga di eventuali esemplari. Qua è stata attuata un'attività di elettropesca e questo è un esempio di un esemplare femmina con le uova che è stato raccolto. Come capita sempre nei crostacei, diciamo, non attuano la politica del figlio unico, quindi bisogna intervenire in fretta perché soprattutto in un contesto come il fontanile, che è una specie di acquarione a cielo aperto, molto complicato perché c'è poca acqua, quindi basta un agente inquinante, un alloctono per compromettere tutto, poi però se si interviene si riesce anche ad agire con più efficacia perché è confinato, no? Si può resettare l'alloctonia almeno da quel punto e sperare che non arrivino altri esemplari da un altro specchio d'acqua vicino. Quindi l'attività è da una parte l'attività di monitoraggio rispetto, cioè di intervento rispetto alle specie che ci sono, presenti, e poi però bisognerà anche interloquire con quelle attività economiche che diffondono nell'ambiente, cioè che mettono a disposizione delle persone piante e animali che non vanno assolutamente rilasciate in natura. Certo, assolutamente. Tra l'altro da questo punto di vista bisogna lavorare su più fronti perché da un lato dobbiamo effettuare un monitoraggio sul territorio, quindi con la strategia abbiamo approntato una rete territoriale per andare a intercettare eventuali nuove introduzioni o introduzioni di specie già presenti in un nuovo ambiente che prima non era stato colonizzato. E poi da questo punto di vista, rispetto alla prevenzione, bisogna lavorare da una parte con i professionisti, come hai detto tu, ma ci arrivo dopo, e dall'altro anche con i cittadini per accrescere la loro consapevolezza sul tema. Adesso volevo semplicemente far capire che di queste specie, che sono solo alcune delle specie aliene, non sono tutte, alcune sono tra l'altro di rilevanza unionale, quindi ne è vietata la vendita già oggi, altre invece sono ancora in vendita e quindi potenzialmente possono essere dei nuovi invasori. La cosa importante è sensibilizzare il cittadino, nel senso che lo scoiattolo grigio di cui vediamo lì una foto o le testugini palustri sono state magari acquistate come animali da compagnia e poi o immessi nell'ambiente in maniera deliberata come lo scoiattolo grigio senza pensare alle possibili conseguenze oppure nel caso della Trachemis viene acquistato un esemplare piccolino di pochi centimetri come dimensioni però non ci si è informati sulla longevità dell'animale, sulle dimensioni che può raggiungere. Quindi da questo punto di vista ognuno potrebbe fare la sua parte e quando acquista deve farlo in modo consapevole in questo senso. La stessa cosa vale anche per le piante perché alcuni esempi delle piante che vedete lì sotto c'è la rinutria di fianco al gambero piuttosto che la panacea di mantegazzi sono specie che sono utilizzate a scopo ornamentale poi in qualche modo sono scappate dai giardini e hanno creato dei disastri a livello ambientale. C'è una canzone dei Genesis dedicata al caso che si cita sempre per spiegare quanto la loctonia, le specie aliene siano un problema che esiste da tantissimo, dalla via della seta c'è sempre stato, solo che non c'era consapevolezza. C'è una canzone dei Genesis della fine degli anni Sessanta che parla del panacea di mantegazza perché allora nel Regno Unito ci fu un'esplosione di questa specie che uno dice com'è che si sono preoccupati così tanto perché fisicamente contiene la linfa della pianta, se esposta al sole produce ustioni. Quindi chi giocava nei prati, bambini che giocavano nei prati, già alla fine degli anni Sessanta si accorgevano di sto fatto e finì sui giornali, sui tabloidi eccetera. Quindi diciamo è un problema anche di consapevolezza perché le pratiche sbagliate prendo la pianta al vivaio quando sono stufo la butto in natura esistono da moltissimo e le specie aliene sono una quantità mostruosa tu che te ne occupi professionalmente e non guardandole al telegiornale ne hai un ordine di grandezza superiore. Sono migliaia. Poi quelle che sono in lissa nera, ci aggiriamo intorno al numero da un centinaio vegetali poi ci sono le specie di rilevanza ognonale che sono 88 a livello europeo in Lombardia ne abbiamo 30 presenti però sicuramente sono quelle su cui dobbiamo avere una maggiore attenzione. Ad esempio il giacinto d'acqua che è quel bel fiore che vedete lì là è stato segnalato in Lombardia credo nel 2017, adesso non ricordo esattamente l'anno però è una specie che risulta ventizia, cioè è comparsa una volta, non ci sono segnalazioni successive sicuramente da monitorare, magari ha fatto un inverno particolarmente rigido ed è morta però consideriamo che è una specie che c'è nel rio degli Amazzoni. È una specie che ha una responsabilità di interramento delle zone umide di cui parlavamo prima in tutto il mondo mostruosa, in tutta la fascia tropicale per ragioni ornamentali si è diffusa e crea questi tappeti che poi si interrano, distruggono habitat, è terrificante. E crea danni alle infrastrutture, ai canali, quindi all'irrigazione, anche agli impianti di depurazione. In Lombardia al momento non c'è questo problema. Non lo so, con il cambiamento climatico cosa può succedere, però ho visto io stessa in Sardegna canali pieni di questa specie. Ah ecco, quindi poi tu vivi anche con la consapevolezza che è brutto averla, è meglio non sapere, quindi tu le vedi quando vai in vacanza, torni con delle notizie terribili. Per concludere su questo, è un momento importante per informarsi, è la mostra Alieni, di cui vi ho messo qui in questo slide una foto di quella che c'è attualmente presso il Museo di Boghera, sempre finanziata con il progetto Live Gestire 2020. La mostra sarà presso il Museo di Boghera fino al 15 ottobre, poi a partire dal 20 ottobre sarà ospitata presso il nostro spazio espositivo dell'Isola 7, presso Via Galvani 27 e sarà presente lì fino al 14 di novembre. Con quell'occasione verranno organizzate delle visite guidate e conferenze, prenotabili appunto con una mail dedicata e poi ci saranno anche dei momenti per le scuole, per le attività. La mostra prevede dei pannelli interattivi, giochi didattici, quindi essendo accessibili anche nel weekend un'occasione per le famiglie per informarsi e iniziare a capire quanto è importante contossare queste specie per favorire la nostra biodiversità. Sì, avere la consapevolezza del fatto che questo non sia un'emergenza, è una costante, cioè nel mondo che sposta cose, persone continuamente noi dobbiamo sempre sapere che la biodiversità si difende anche stando attenti alla loctonia, alle specie aliene. Grazie mille, molto bene, grazie Daniela Grande. Hai finito o devi dire delle altre cose che ho dimenticato? Volevo aggiungere una cosa, siccome l'argomento mi interessa sono andato un po' a braccio ma chiedo scusa se ho tarpato le anni. No, perché abbiamo leggermente anticipato però per seguire un attimino il discorso, gli incontri con i professionisti del settore sono fondamentali come dicevi tu, ad esempio noi con il progetto LifeGestire abbiamo risposto questo codice di comportamento e faremo, perché sono ancora in programma, alcuni incontri specifici anche con il mondo dell'acquariofilia, i venditori dei pet, l'intento è quello di fare in modo che questi soggetti diventino anche degli alleati nel contrasto delle specie perché se si adottano delle buone pratiche per gestire anche dal loro punto di vista aziendale queste specie allora possiamo fare un lavoro migliore. Certo, cioè non danneggiare la loro attività economica con il divieto anche perché sennò diventa troppo faticoso per le istituzioni inseguire il mercato, deve essere il mercato che collabora e spiega anche agli utenti che non devono prendere e lanciare. Esatto, buttare resti vegetali così nell'ambiente eccetera, quindi l'intento è di impostare questo tipo di cosa. E l'altra cosa che volevo aggiungere, questi sono degli screenshot di alcune video interviste che abbiamo realizzato su vari argomenti, ad esempio c'è la dottoressa Santicchia che fa parte della nostra task force sulle specie aliene che fa un video sugli scogliattoli, Francesco Bisi che parla del procione, Patrizia Di Giovinazzo che parla invece delle specie aliene degli interventi fatti con il live gestire. Tutti questi video verranno pubblicati sulla piattaforma qui indicata di WWF, One Planet School e sui siti di progetto del gestire. In teoria anche potenzialmente oggi, io purtroppo non avevo un video da farvi vedere perché come dire non sono ancora ufficiali. Ma abbiamo anche il procione, scusami, c'è il procione all'octone in Italia? Sì, adesso sta diventando un problema in Toscana e in Emilia Romagna. Perché ha le mani, perché è carino, è una specie di gatto con le mani e tutti vogliono il procione perché poi il problema è il carinismo delle specie all'octone. Tutti vogliono eradicare il ratto all'octono ma nessuno vuole farlo con il procione che ha le mani e lo scogliattolo grigio che è così carino. Quello è un altro grosso, no? Eh, quello è un grosso tema. Le piante che non hanno gli occhi ce ne liberiamo con più facilità. Vabbè. E l'ultimo su cui sottolineo l'importanza è il video fatto dal colonnello Amerigo Filippi che parlerà del presidio di Orio che è stato creato con il progetto Gestire. Questo presidio ha una duplice funzione di controllo repressivo di possibili importazioni specialiene che possono arrivare da paesi terzi e anche una funzione informativa per i turisti e i viaggiatori. Perfetto, fantastico. Funge anche da ponte per il prossimo intervento. Grazie Daniela. Grazie a te. Grazie mille.